Mamma non chiamarvi mai più Stavo registrando Dovete sapere che oggi è 28 luglio Fa un caldo della madonna E dentro di noi le uova si squagliano Esatto, avete capito bene Questo video non ha senso E' il degrado totale Però, dato che vi piacciono molto Diciamo questo genere di video Assieme soprattutto a Noxer Ho pensato che sarebbe stato carino Riproporvi una cosa stile vlog in macchina Anche se poi questo non sarà Solamente un vlog in macchina Ma rimanete con noi per scoprirlo E già che ci state lasciate anche un like E passate in iscrizione soprattutto Dal canale di Noxer Mi raccomando, bella raga Bella ragazzi e bentornati qui Sul mio cacaralla Cacaralla giallo Ma che bello quanto le persone ti fanno passare Stavo guardando proprio il mio striglio Dovete sapere che oggi è 28 luglio Fa un caldo della madonna E dentro di noi le uova si squagliano Magari si è schiudessero le uova Finalmente poco sole Comunque siamo qui con un vlog Il secondo in macchinetta Con Tottina Con Carlotta Noxer signori Noxer Ti prego ti posso togliere il rumore dell'aria fuori con Audacity Guardate come si sente Io muoio con i testi anchiusi Ti dico io ho registrato Va bene va bene va bene No è figo perché ogni volta che facciamo un video insieme ragazzi Lei mi dice La GoPro è scarica No no non c'è niente la GoPro Lei è come se se la dirassero su cose che sa fare Perché mi dice Ti posso togliere l'audio di qua Ti posso perfezionare qua Mamma mia L'ultima volta Dio stasera deve editare le visione di carriera Tu lo posso editare No beh sì direttamente Ah comunque non abbiamo detto che video è È un vlog in macchina È un vlog in macchina A limite la mettiamo in carica mentre andiamo da te E poi la riprendiamo quando torniamo a casa Tanto c'è pure il faretto a presto A posto Detto questo signori Perché stiamo registrando È brutto che voi pensiate che stiamo registrando Perché non avevamo nulla da fare in macchina Perché non è assolutamente così Esattamente In realtà vi spiego subito No lui non lo sa il motivo In realtà vi spiego subito No in realtà Noi eravamo passati In un punto dove eravamo passati Nel precedente vlog in macchina Ciao E io gli ho detto Semplicemente ciao E io gli ho detto Difficile trovare parole molto serie Tenterò Dove l'hai tirato fuori qualcosa? È un preservato Fugato No vabbè comunque signori Perché appunto eravamo passati in un punto In cui avevamo registrato il vlog in macchina Quindi mi ho detto Ma Ehi Io ho il porta gopro Chiamatesi proprio Porta gopro per la macchina Mettiamolo Cioè facciamolo Facciamo un bambino Mai No dai scherziamo Martina ti amo Io no però Praticamente in realtà il senso di questo video è spiegarvi che io da lunedì andrò tipo da mia nonna Senza tipo E quindi Sarà un lunedì bello E quindi loro staranno pensando Ma adesso non ci porta più video No perché lui lo fa per voi Fede ma la carriera Hai visto il posto dove abbiamo iniziato a mettere foto L'imbarazzante di tutti? Ma l'hai visto il Bambino Di zero Zero Il bambino di zero l'hai visto? Il bambino di... Non è zero un bambino Oooooooohhhhhh Grazie Cosa? 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 Ma che cazzo ci entra? Vabbè magari si scorda per nome suo Vabbè ragazzi noi adesso andiamo a pranzare A fare i bambini Una cosa brutta che hai detto Perché io e te dovremmo fare un bambino? E poi la gente pensa male Biiiiiii Ciiiiiii Diiiiiii Nooo ci stava il cambio vocale Il cambio vocale tra C e D è giustamente Chiaramente una vocale Vabbè allora Intendevo il cambio di tono ritardato Il cambio vocale in quel senso Quanti like gli diamo per questo video Dexter? Nooo Ti stava andando il microfono con la mano In realtà noi abbiamo un microfono E questo è il paninaro Ah che cosa triste Noi facciamo un giro e ci parcheggiamo Cioè noi siamo talmente ACAB Che vediamo vicino al Mac Pure di non andare al Mac Perché ci facciamo gli alternativi E andiamo a mangiare un panino Vabbè che Vabbè che questo è il panino più buono di Roma Di cui parlavamo prima In realtà poi abbiamo optato per il Mac Poi prendiamo il milkshake al paninaro Eh? Spoiler Quella volta è importante il video Ad esempio questi No 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 Ti prego non ho solo tre No 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 Sono come la vida Sono buoni Quello volevo dire Quindi ha cominciato a registrare Bene se vedi i secondi vuol dire che ha cominciato a registrare Ah perché lampeggia? Perché sta registrando Ah non perché scarica Oh Oh Ah il ginocchio Mamma mia Allora ragazzi Passate al canale di Sespo Per questa ripresa che faremo adesso Alza di e manda affanculo Alza di e manda affanculo Vaffanculo Così ci sta Alza di e manda affanculo dietro Vai Secondo me il momento più brutto della vita di nuovo è quando tu come molta enfasi arrivi qui per prendere il milkshake agli oreo e ti dicono Io ora sono finita Ripassate un'altra maniera Ah poi un po' ho fatto tutto un bucchino Lo sapevo io È un sapore che non mi ha amato la vaniglia Bellissimo il lavoro Chi vuole capire capisca Il fiumno Is dicembre Sono quasi sicuro che non faceva esattamente così Allora signori Il video sta giungendo a termine Dato che comunque stiamo tornando a casa Non ha avuto molto senso Però se vi è piaciuto lasciate comunque un bel mi piace Che è sempre ben accetto Detto questo Signori Ci becchiamo Con i prossimi video Martedì uscirà la carriera Bella raga Ciao 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 Grazie a tutti.